Nonostante le elitte occidentali e cosiddette sovranazionali, dice Putin, si sforzino di preservare l'ordine esistente delle cose, sta arrivando una nuova era, una nuova fase della storia mondiale. Ha decretato così a Teheran. Ha ribadito un po' i concetti che sono stati espressi al forum economico di San Pietroburgo. Andiamo avanti con il nuovo che avanza. In questa nuova era, solo stati veramente sovrani possono garantire dinamiche di crescita elevate. Diventare un esempio per gli altri negli standard e nella qualità della vita, nella protezione dei valori tradizionali, dice Putin, e negli alti ideali umanistici. Immagino che non si riferisca alla Cina. Nei modelli di sviluppo in cui una persona diventa non un mezzo ma l'obiettivo più alto. Bellissime queste parole. Ma qualche contraddizione in sé rispetto al nuovo ordine mondiale che sta per nascere, o meglio in cui siamo già praticamente, ci stiamo incanalando, le trovo. Ma questa è la fase degli statisti. È la fase delle parole e delle frasi che si ricorderanno. Putin ha parlato di grandiosi cambiamenti, ovviamente irreversibili. Irreversibili sia a livello nazionale, sia a livello globale. Perché si stanno sviluppando le basi e i principi di un ordine mondiale armonioso. Più equo, socialmente orientato e sicuro, un'alternativa all'esistente. Vi riporto le frasi, ok? Vi riporto le frasi, mi limito a fare questo. Che sudato. L'Occidente, sostiene Putin, non può offrire un modello per il futuro. Perché? Come non dà di ragione. Ha rapinato altri popoli, sia in Asia che in Africa. E adesso tocca a noi. No, scusi, questa l'ho aggiunta io, scusate. Putin quindi ha affermato che i meccanismi del potere devono essere resi più aperti. E il paese deve andare avanti. Perché è inaccettabile riposarsi solo sugli allori e godere dei successi degli antenati. Saggio. Questa fase qui è saggia. Insomma, e in arrivo, ribadisce, una nuova fase della storia mondiale. Nella quale cresceranno davvero solo gli stati veramente sovrani. Quindi preparate i biglietti. E ce ne andiamo tutti a Mosca. Stiamo tranquilli e sereni.